Un'auto fuori controllo esce di strada, sfonda e devasta la parte esterna del bar gelateria Fabri lungo via Pompiglio-Fastigi, principale direttrice dello stesso quartiere di Villa Fastigi. È accaduto poco prima dell'alba di domenica. L'autista della Ford Cuga in questione è fuggito dal luogo dell'incidente, salvo proseguire per poche centinaia di metri e abbandonare l'auto incidentata nella vicina pompa. L'uomo alla guida è stato rintracciato dalla polizia. Si tratta di un 44enne di origine moldava, residente a Pesaro, alla guida del veicolo intestato ad un 65enne. Danni ingenti e non ancora quantificabili, compresi quelli alle tubature che hanno chiamato ad intervenire anche i tecnici di Marche Multiservizi. Mi hanno chiamato alle 5 e mezza della mattina di venire giù che c'era stato questo incidente. I vicini qui si sono svegliati tutti e mi hanno riferito a quello che era successo. L'auto c'era quando è arrivata, è andata via? L'auto era andata via. L'hanno trovata 200 metri più avanti perché non camminava più e hanno trovato anche l'uomo che la guidava. La macchina non era sua, però è assicurata già. Speriamo che vada a posto con l'assicurazione, non ci vengono a portare via la mondezza perché non c'è un servizio, devo contattare un privato, non so quanto mi viene e quanto non mi viene. I discorsi sono questi. Non so appunto se è assicurato anche sul trasporto. La macchina è assicurata, perciò dovremmo essere a posto. Io ho l'assicurazione mia, se non copro la sua copro la mia. Il danno io non lo so quantificare, bisogna che fa l'assicurazione e guardiamo quello che i tavolini, è entrata la terra fino a metà gelateria perché ha ribaltato tutti i vasi. Si parla di danni materiali e grazie all'assenza di pedoni o ciclisti non si è parlato di tragedia. Quella con l'eccessiva velocità è un problema periodicamente ricordato da residenti e attività della stessa strada. Però vanno troppo forti in questa strada e non abbiamo nessun riscontro, non si possono mettere telecamere, non si possono mettere autovelox, ci vogliono i controlli, solo controlli qui perché se no non ne usciamo.